In questo momento abbiamo dei numeri che sono gli stessi dell'anno scorso, per cui non abbiamo dei dati abbastanza freschi e nuovi, perché abbiamo riscontrato da parte delle famiglie forse un po' di diffidenza nel fare gli abbonamenti, magari anche perché qualcuno giustamente vuole vedere un po' come sarà organizzato e anche un po' forse come evolverà questo virus. Abbiamo contattato le scuole, abbiamo fatto diversi incontri per cercare di capire quali erano le esigenze e per adesso abbiamo comunque confermato quello che era l'anno scorso. Con il carico all'80% riusciamo, attivando alcuni mezzi di supporto, quindi le famose linee bis, riusciamo a portare tutti gli studenti a scuola negli orari previsti. Ci saranno delle novità, ad esempio sappiamo che non sarà possibile avere in ogni bus un controllore, quindi anche per l'autista ci sarà un surplus di competenze. Gli autisti non devono essere gravati di competenze o di responsabilità ulteriori a quelle che già hanno come guidatori e da contratto, però è una loro facoltà poter vietare l'ingresso al bus a persone che non hanno la mascherina ed è una sua facoltà quella di poter segnalare alle autorità competenti nel caso in cui per magari un paio di mattine consecutive ci fossero dei soggetti che creano dei problemi o che si comportano in maniera scorretta. Grazie. Grazie.